E ma allora, ora torniamo un attimo dietro, non puoi chiamare così lo zio Stefane, mentigli e tirarli così, oh, gli ho già detto che mi spiace, insomma, anche io vorrei compiare gli anni come Isabel, sì, lo so, ma non puoi pensare che oggi sia il tuo compleanno, insomma, l'azio Stefane si è impegnata così tanto e poi invece, oh, insomma, mamma, non lo so, è stata un'idea così spontanea, ops, ai, 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 perché mi guardate così, no, io non c'entro niente, no, davvero no, ah, Julian, insomma, l'idea forse l'ha avuta davvero da te, insomma, avrebbe potuto venire da te, insomma, l'influenzi molto, sì, insomma, è stata un'idea di Julian, sì, sì, me l'ha dato in modo telepatico, oh, questa è una cosa a volte io scorretta, insomma, perché tu hai combinato qua e non devi mischiare a me, ah, eh, Julian ha ragione, insomma, non puoi dar la colpa a lui, insomma, c'è il castigo, cosa, ma io non penso essere mai stato in castigo, non so neanche cos'è, ah, ah, e quando non puoi uscire, devi stare nella tua camera e pensare a quello che hai combinato, mh, cosa, ah, ah, in castigo, mh, non è giusto, non è divertente, smettila, oh, 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 giochiamo qualcosa almeno, sai cosa ti dico, mh, castigo, no, e questa è la mia camera, non vedi i confini del muro, qual è la tua camera, fuori, ah, cosa, ma devo restare a casa o devo restare anche nella mia camera, oh, oh, a quanto pare lo skateboard è questo, il nostro muro, ok, quindi non puoi passare, oh, no, e se io devo andare in bagno o se ho fame, cosa faccio, ma allora devi essere molto gentile e chiedermi il permesso di passare, oh, oh, Giulia, dove vuoi andare, per favore, mi porti il telefono, oh, sì, 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 vado, ho il telefono, oh, no, cosa ho combinato, e adesso non posso più fare niente, Giulia, per favore, mi dici dovevo andare col telefono, mamma, non ho idea, insomma, ho bisogno di Emma, cosa, chi deve chiamare, oh, no, la polizia, vero, solo perché l'ho messa in castigo, oh, niente panico, non lo so, mamma, insomma, hai qualcosa da nascondere, ma non lo so, mamma, qualche suo amico, no, insomma, se mia figlia chiama la polizia perché l'ha messa in castigo, sarebbe davvero un massimo, cosa, un gelato, posso anch'io, oh, ma certo, tieni, oh, già, sei dietro il confine, oh, 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 sei il peggiore fratello di sempre, oh, sì, 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 sono bravi su a fare il partivo, fratello, oh, 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 ho, si, Sì? Giù Stefan? Sì? Oh sì, mi dispiace. Oh, non ti puoi aiutare più o meno io. Colpa sua, si è presa il castigo, no? Sì, sì, mi volevo scusare davvero. Sì, no, non posso lasciarlo a casa. Ah, devo venire, devo chiedere, mamma, possiamo andare un attimo ad allo zio, così mi posso chiedere scuse e poi va tutto bene e posso uscire. Ah, va bene, se vuoi scusarti allora va bene. Niente castigo per questo momento, eh? Ah, andiamo! Oh, cosa, cosa? Oh, certo, quando il castigo non è un vero castigo. Forse ti puoi un pochino calmare, eh? Posso andare a prendere il mio gelato? Vieni, Emma, andiamo ad allo zio Stefano, ma il castigo è semplicemente una pausa, ok? Dopo devi tornare lì. Oh, molto bene. Ma, insomma, molti più permessi di quanti l'avrei io. Cravata, posso offrarti un caffè? Sì, volentieri, grazie. Tua moglie dov'è? Oh, io ho un lavoro, io sono qui con i gemelli, vado a prenderli. Oh, mi sto super annoiando. Emma, non siamo a casa, non puoi mica andare nel suo... Ehi? Eccoli qui, i due. Ah, ma quanto siete cresciuti, che carini. Chi è chi? Non li distingo più. Questa Kevin, lui ha i capelli un po' più cresciuti, eh? Cosa? Wow, ma non ho quasi i capelli, li avete tagliati agli altri, oh? Mmm, di sicuro non sa nemmeno tenere un gelato in mano. Ah, ok, ogni tanto sono strani i bambini, eh? Cosa? E questo è il segreto? Tagliarsi i capelli? Eh, cosa? Non ho capito, mamma. Ah, ma i tuoi capelli sono perfetti, quindi non devi provarti nessun problema, eh? Oh, comunque trovo questi due così carini, questi capelli, fantastici. Mamma, guarda, sono i tuoi bambini, sono più... Assomigliano più a te di me, Julian. Ah, ancora questo discorso, anche Julian pensava che fossero i miei figli, ma non lo sono. Ah, no, non penso nemmeno io che rimangano i miei mogli neri o i miei marroni, quindi... Vado, ogni modo, eh, ma siamo qui per un motivo, non ti ricordi? Mmm? Qual è il motivo? Mmm? Eh, in realtà volevo scusarmi, ah, ah, mi dispiace che ti ho mentito sul mio compleanno e non era il mio compleanno. Oh, insomma, sono abituato con i bambini, no? Ah, Stefan, Stefan, mi sembra un po' imbarazzante, insomma, che i bambini ti abbiano preso così in giro. Hai già fatto qualcosa per Julian, insomma, era tutto nascosto a noi. Oh, accidenti, penso che sia il mio ruolo, insomma, sono lo zio che, insomma, costruisce cose, costruisce cose pazze, insomma. Claudia, puoi bere il tuo caffè? Eh, Stefan, mi dispiace, ora non ho tempo, devo andare. Oh, ma io resto ancora, ehi, siamo appena arrivati! Va bene, se vuoi restare qui, io comunque ora vado, dopo posso venirti a prendere, non cominciare guai. Ehm, Emma, vuoi vedere la loro camera? Di sicuro ti piacerà? Oh, sì, volentieri! Benvenuta, Emma! E puoi giocare con tutto quello che vuoi. Wow, fantastico, avete una piscinata tutta vostra, la vorrei anch'io. Da noi c'è qualcosa che ti c'è l'asilo. Oh, esattamente, non le costruisco solo per voi le cose, ma anche per i miei bambini. Wow, super divertente! Non avete niente contro, vero? Wow. Oh, 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 qualcuno forse ha bisogno di aria fresca. Ai, 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 Kevin, spaventi la tua amica così... Oh, ti pulisco subito. Oh, oh, cosa c'è? Dai, non essere così, è antipatico. Accidenti, me ne sono dimenticato, in cucina sono ancora due bottiglie. Le puoi prendere, Emma? Ma sì, certo, sono in colpa, no, vado subito. Oh, oh, non è male. Magari possiamo mettere Emma come babysitter. Ah, eccola qui, una per Kevin, una per Kevin. Oh, sono belle calde. Ma, oh, un momento, ma questa è la forbice con questi tali capelli. Wow, anche io voglio avere dei capelli così. Potrei tagliarmeli un po' e poi saranno più belli. Oh, no, non piangere, no, no. No, ma dove è finita, Emma? E zack, zack, e via! Oh, vado a vedere, giovanotti. Aspettate un attimo, papà, torno subito. Emma, cosa stai facendo? Dovevi solo prendere la beberola. Sì, ma poi sono stata distratta, volevo avere anche io dei capelli così belli. Guarda cosa ho trovato. Oh, Emma, andammi subito. Oh, no, cosa hai combinato? Ma, insomma, zio, l'idea me l'avete data voi, parlavate dei capelli, volevo farlo anch'io, come i bambini, no? Oh, Emma, dove vuoi andare? Vogliamo dargli i biberon, no? Oh, vado a casa, abbiamo anche là una forbice. Ehi, non puoi mica farmi lavorare qua. Accidenti. Oh, te lo scordi, ora rimani qui. Oh, no, ma questi bambini fogli mi tirano veramente matto. Ora si taglia pure i capelli, Martina e Claudia mi ammazzano.